Scusate, questo è il gruppo di autosostegno per incontinenti anonimi? Sì, sei la benvenuta. Prego, accomodati. Parlaci un po' di te. Salve a tutti, mi chiamo Alessandra e ho gravi problemi di incontinenza. All'inizio andavo in bagno ogni mezz'ora e invece ultimamente ci vado ogni dieci minuti. Io non riuscivo neanche ad ammettere di avere un problema, ma adesso ho deciso di smettere. Bravo, un buon inizio. Adesso lo ci presentiamo tutti quanti. Ciao a tutti, sono Ilaria e non vado in bagno da due ore. Ciao a tutti, sono Gabriele e non vado in bagno da sei ore. Ciao a tutti, sono Francesca e non vado in bagno da una settimana. Ciao a tutti, sono Manuel e non vado in bagno da sei mesi. Ragazzi, venite a vedere su internet, c'è un video che fa pisciare sotto dalle risate. C'è un video che fa pisciare sotto dalle risate. Risate, risate, pisciare sotto dalle risate, pisciare sotto dalle risate, dalle risate, dalle risate. Io lo vado a vedere! Oh, anch'io! Amore! Che cosa ci sarà mai di così divertente da vedere su internet? Forse c'entrano un'altra volta gli assurdi dialoghi di Lodovico Bellet? Lo scopriremo nel prossimo video!